Musica Si parla di risorse di bilancio con la seconda variazione in consiglio regionale. Il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, illustra la misura, dettata da una logica di prudenza ma al tempo stesso di sostegno ai settori strategici della regione, rimodulazione di alcune spese e fondi per la sanità e lo spettacolo. Ci sono però delle misure effettivamente innovative da un punto di vista finanziario e in particolar modo ricordiamo 53 milioni di euro che vengono destinati alle aziende sanitarie e sono finalizzati al rilancio delle politiche di investimento delle aziende sanitarie e quasi 9 milioni di euro che vengono destinati al settore dello spettacolo, un settore che dalla pandemia è stato pesantemente alterato e che ha bisogno di un sostegno effettivo da parte delle istituzioni pubbliche. C'è anche una cifra consistente, 3 milioni e mezzo di euro nell'annualità 2022-2023, che andrà a sostegno degli enti locali per la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Un ultimo aspetto che mi preme evidenziare di questa manovra finanziaria è il fatto che c'è un consistente accantonamento al fondo di riserva di risorse che sono destinate ad evitare le possibili perdite del bilancio del sistema sanitario regionale. Questo perché sappiamo tutti che le stime che si danno al 31 dicembre di quest'anno con riferimento al fondo sanitario sono stime che possono far registrare una perdita e quindi prudenzialmente la Regione Toscana, in attesa di opportune determinazioni da parte del Governo, ha deciso di accantonare una cifra consistente proprio per evitare che si registri una perdita nel bilancio del sistema sanitario regionale. Voto contrario dalle forze di centro-destra che spiegano così le ragioni del no. Da un lato perché riguarda tutta una serie di rimodulazioni per il 2022 di mancata realizzazione di opere infrastrutturali e la nostra Toscana paga un gap infrastrutturale notevole. Dall'altro perché non ci convince tutta una serie di operazioni che sono state fatte recentemente dalla Regione Toscana questa discussione inevitabilmente si è collegata con quella sul buco di bilancio della sanità e per dire una delle disposizioni si è cercato di caricare sul bilancio del Consiglio della Giunta regionale il debito in termini di ammortamento di 53 milioni del sistema sanitario, quindi uno sgravio. Ma la situazione non è assolutamente chiara. Perché è una variazione di bilancio che sposta 76 milioni e mezzo di investimenti previsti nel 2021 al 2022 per recuperarne circa 36 che vengono destinati alla sanità, altri che vengono destinati alla cultura, altri al sociale. ma il fatto grave, a mio modo di vedere molto grave, è che nei 76 milioni e mezzo che vengono sottratti nel 2021 agli investimenti previsti in Toscana vi sono investimenti sulle infrastrutture, una su tutte la FIPILI, sul trasporto ferroviario regionale. Vengono sottratti soldi destinati a 25 milioni di euro destinati al trasporto ferroviario regionale. E poi, l'ultimo, permettetemi un altro passaggio, la regione toscana oggi taglia 8 milioni di euro 8 milioni di euro alla transazione ecologica e all'efficientamento energetico. Negativo anche il giudizio dato al Movimento 5 Stelle. Di fatto vengono sostenute alcune istanze sicuramente condivisibili, ma niente di più. Ci si riduce soltanto a piccoli interventi che mancano di una visione di più ampio respiro, a una programmazione, che di fatto è quello che avviene ogni volta che ci sono delle variazioni al bilancio. La cosa che più ci preoccupa è che ci sono una serie numerosa di rimodulazioni delle spese che ci fanno capire che c'è un problema di capacità di spesa, di programmazione, di realizzazione di cronoprogrammi in molti progetti. Voto favorevole d'Italia è viva, è importante non aver toccato le tasse regionali. Serviva fare un'allocazione corretta delle risorse che attualmente sono a disposizione della regione, quindi aver liberato oltre 70 milioni di euro consente di mettere in sicurezza i fondi della sanità, continuare a dare servizi, erogare e dare risposte rispetto alla battaglia del Covid, non gravare sui cittadini. Era una battaglia politica che noi abbiamo portato avanti, abbiamo vinto questa sfida che serviva per non aumentare nuove tasse, ma soprattutto per trovare una risposta corretta alle esigenze del sistema sanitario e anche una collocazione corretta, essendo ormai a novembre, delle risorse a nostra disposizione. Passa a maggioranza CDPD e Italia Viva, stensione di Lega e Fratelli d'Italia, voto contrario di Movimento 5 Stelle e Forza Italia, l'adeguamento normativo alla cosiddetta legge Marson, si parla di governo del territorio, a illustrare la razio dell'adeguamento che prende spunto anche da una sentenza della Corte Costituzionale, la Presidente della Commissione Ambiente. Per consentire a cittadini di intercettare il super bonus per l'adeguamento edilizio, per il recupero, l'adeguamento sismico, per il risparmio energetico, insomma abbiamo fatto queste modifiche che sostanzialmente mettono in condizioni di prorogare gli strumenti urbanistici da una parte, abbiamo normalizzato e meglio definito cosa si intende per nuova costruzione, perché a volte una parola dava interpretazioni ai comuni, abbiamo specificato quali sono gli interventi che necessitano di scia o di permesso a costruire e abbiamo introdotto un concetto un pochino più estensivo delle tolleranze costruttive. Come Partito Democratico, infine in Commissione, abbiamo proprio per venire incontro ai cittadini che trovavano una difformità tra i numeri depositati nei comuni delle proprie case, quando i geometri o i tecnici andavano a fare la domanda del super bonus, c'erano a volte delle piccole difformità che noi abbiamo invece definite legittime, cioè quindi lo Stato di fatto è lo Stato legittimo degli immobili. Infine per i comuni che ancora non hanno adeguato gli strumenti urbanistici gli abbiamo dato la possibilità di farlo entro il 2022. Questo era un provvedimento davvero molto atteso perché consente in questo modo ai cittadini di poter davvero ripartire per l'intercettazione del super bonus ai professionisti di lavorare e alle imprese di investire nel nostro territorio. Come detto, adeguamento che passa a maggioranza. Ecco i pareri dei vari gruppi consigliari. Con la proposta di legge numero 59 la Regione si adegua al decreto 76-2020 del Governo e si è reso necessario per far sì che gli adempimenti in relazione ai bonus fiscali, il cosiddetto 110%, siano effettivamente realizzabili. Si tratta infatti di introdurre una serie di modifiche alla legge 65-14 sulle tolleranze sulle altezze, introducendo dei criteri di flessibilità e anche di speditezza di procedimenti amministrativi, favorendo quindi il lavoro dei tecnici, cosa che veniva chiesta da diversi anni e che, grazie al bonus 110% e alla mole di lavoro che ha scatenato, ha reso assolutamente necessario. In più, adeguiamo le norme anche a una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimi due articoli, mi sembra, della legge regionale toscana. Intanto sulla PDL 59 voteremo articolo per articolo proprio perché è l'ennesima modifica alla legge 65, questa volta molto significativa, però c'è ancora qualche lato che a noi non ci convince. Detto questo, bisogna rilevare che il PD, dopo sette anni, ha deciso di sconfessare l'ex assessore Marzon portando delle modifiche che sono veramente sostanziali e che disconoscono la razza con cui quella legge era stata votata nel 2014. Oltretutto, in Commissione abbiamo anche cassato i primi due articoli di questa modifica che vedevano che il Consiglio venisse praticamente svuotato delle sue competenze passando i piani speciali tutti alla Giunta. Quindi, devo dire che il PD in Consiglio si è fatto valere questa volta. Ma è bene, deve essere un segnale per la Giunta perché ricordiamo che il Consiglio ha la potestà legislativa e non può essergli impedita, certo, da una legge che arriva da qualche assessore. Le modifiche sono interessanti, sono volte a recupero, cosa che noi diciamo da sempre, quello che c'è va recuperato, anche perché ci sono molte aree che sono degradate in Toscana. Va però anche a toccare delle tematiche che secondo noi avevano bisogno di un passaggio dalla Seconda Commissione perché quando si parla di agriturismi e c'è una legge in discussione in Seconda Commissione, una nuova legge, un'altra legge ancora, e ce n'è una presentata dalla Lega che andrà in discussione a breve, forse era bene cercare di capire qual era la soluzione migliore, altrimenti rischiamo di fare solo confusione. Quindi io credo che ci sia un po' di scollamento nel PD in questo momento perché vediamo che la Giunta presenta le cose, il suo Consiglio gli boccia gli articoli e vediamo che le Commissioni non parlano tra di loro. Quindi un problema politico lo rileviamo, rileviamo però che finalmente, come diceva già il centro-destra nel 2014, la legge Marzon, se sono resi conto anche al centro-sinistra, che non poteva funzionare e l'hanno totalmente stravolta. Una modifica importante a legge Marzon che entra nel merito, c'è stato riconosciuto dall'Aula il merito di questa battaglia, ce lo prendiamo volentieri, ovviamente l'abbiamo condiviso con altre forze politiche, però modificare la legge Marzon è un dovere. Oggi abbiamo agito su una quarantina di articoli che la migliorano, la semplificano, vanno nella direzione con la quale c'eravamo proposti in campagna elettorale allo stesso tempo. Nei prossime ore mi aspetto che ci sia un ulteriore scatto in avanti rispetto all'approvazione di un ulteriore step, che è quello che noi abbiamo depositato, che eliminerebbe la doppio livello di programmazione, non ci sarebbe più piano strutturale e piano operativo, ma solamente un unico strumento. Se riusciamo a fare queste due grandi modifiche, che erano previste nel nostro programma elettorale, da qui a fine anno mettiamo la Toscana nelle condizioni di intercettare la ripresa economica con degli strumenti urbanistici completamente nuovi, che era una parte saliente del nostro programma. La legge Marzon è stata definita in tutta Italia come una delle leggi sul governo del territorio e del paesaggio migliori. E se anche è vero che potrebbe essere rimodulata e aggiornata ai tempi di oggi, certo non meritava che venisse smantellata così come è avvenuto. Perché di fatto, se all'interno di alcuni articoli si può vedere un effettivo alleggerimento e semplificazioni riguardo la burocrazia e alleggerimento economico riguardo alcuni oneri, alcuni altri, come il passare dai 3 ai 5 anni oppure alzare i livelli di tolleranza, ci dicono chiaramente che stiamo andando verso una deregulation. Ecco, è quello che hanno contrastato anche associazioni come CGL, come è stato denunciato anche dall'Egambiente. Tutto questo non è stato però preso in considerazione non soltanto dalla maggioranza ma anche dalle altre opposizioni. Ecco, in un momento in cui il PNRR parla di transizione ecologica, gestione e tutela dell'ambiente, soprattutto in un momento in cui il dissesto idrogeologico è un problema gravissimo per i cambiamenti climatici, credo che si stia aprendo una breccia molto pericolosa in un territorio fragile come quello toscano. Torna in presenza l'appuntamento con la festa della Toscana il prossimo 30 novembre, il giorno in cui ricorre l'anniversario della riforma penale voluta da Pietro Leopoldo di Lorena, che abolì nel Gran Ducato, primo stato al mondo, la pena di morte. Una festa attuale, dice il Presidente del Consiglio regionale, nell'illustrare il programma. Vogliamo fare in modo che oggi un tema molto serio, che è quello della violenza, del linguaggio d'odio in rete, possa avere la stessa dignità e attenzione che abbiamo dato a tante iniziative a sostegno dei diritti, dei diritti più in difficoltà, dei diritti che oggi devono essere il segno e il carattere distintivo sempre di più della nostra regione. Saremo la prima regione d'Italia a sottoscrivere il manifesto delle parole non ostili. Diremo con forza che la Toscana è una terra che non odia. Non lo faremo da soli come Consiglio regionale, lo faremo insieme ai sindaci, lo faremo insieme alle scuole, lo faremo insieme alle associazioni. Questa è una festa di tutti i cittadini e di tutte le cittadine della Toscana. alla presentazione del programma della festa della Toscana anche i membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale toscano. Sì, è una Toscana che non odia, che nel 1786 era in grado di determinare amore, di fare cambiamento, di abolire la prima di morte, di credere sulla persona, sulla rieducazione della pena. È una Toscana che quindi si rinnova, che nei secoli sta in grado di rinnovare, di cambiare e oggi ancora di più. Noi abbiamo il dovere e il compito di tramandare questi che sono i nostri valori, la nostra cultura. Il tema è stato un tema condiviso perché siamo particolarmente orgogliosi che il Gran Ducato di Toscana sia stato il primo Stato al mondo ad aver abolito la pena di morte e deve continuare l'impegno oggi con la lotta contro le parole d'odio che possono colpire chiunque e per questo devono trovare l'impegno di ciascuno di noi e per combatterle. Grazie per la visione!